c'è stato molto stupore, perché anche qui l'Italia ha spaccato sui social, vedo, sull'intervento dell'ex onorevole grillina Sara Cunial alla Camera, e ha fatto una tirata per cui rischia anche un'accusa di vilipendio nei confronti del nostro Presidente della Repubblica, che io voglio dire a Mattarella, voglio riportarvi uno stralcio di questo discorso che sta dividendo la popolazione. La Cunial, per capirci, era quella che venne beccata mentre Pasquetta andava a Ostia, al mare, e disse io sono parlamentare, posso andare per lavoro. La Costituzione permette ai parlamentari di andare a Ostia, come fosse una della casta, voglio dire. Il passaggio simpatico che secondo me merita attenzione è questo, mentre voi stracciate il codice di Norimberga, con TSO, multe deportazioni, riconoscimenti faciliari, sociali intimidazioni avallate dallo scientismo dogmatico. Che? Lo scientismo dogmatico. Ah, dogmatico però. Protetto dal pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo Paese. Sì. Secondo me va seguita questa ragazza. No, va siringata, secondo me, siringatela. Siringatela. Non è che lo puoi sedare. Al limite sghiandolatela, ecco. Ma che è? Un furetto? Un furetto. Seguitela, ecco. È bello sapere che il Paese è in mano a gente equilibrata, serena, e che dice lo scientificismo dogmatico, quella roba lì. Va bene. Scientismo. Lo scientismo, sì. Andiamo avanti.